Grazie per supportare il nostro canale. Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano eventi inattesi per le prossime puntate. La crisi che sta colpendo duramente la storia d'amore della Forrester con John Finnegan potrebbe causare altre rotture. La sop opera potrebbe testare uno scambio di partner nei prossimi episodi, in quanto Finn si appoggerà o Pestefi si riconnetterà con Liam. La situazione potrebbe sfuggire di mano e creare delle situazioni davvero inaspettate. Shayla Carter entra nella vita di Finn come un uragano e inizia la guerra con Steffi. Quest'ultima non ha alcuna intenzione di permettere alla temutissima Dark Lady di farsi strada nella sua famiglia. Il medico inizialmente sembra essere dalla parte di Shayla, ma poi cede alle richieste della Forrester. In questo enorme pasticcio, è lui a soffrire più di tutti, poiché non vuole perdere Steffi. Allo stesso tempo, vorrebbe conoscere la sua madre biologica. Liam è più che d'accordo con la Forrester nella decisione di tenere Shayla lontana da casa sua. Soprattutto perché lì vive anche la piccola Kelly. Dunque, sarà proprio questo a far tornare lo Spencer sulla stessa strada di Steffi. Ovviamente, potrebbe anche non accendersi alcuna scintilla tra loro. La giovane Forrester è ora troppo impegnata a mettere Shayla fuori gioco e potrebbe non avere tempo per pensare a un eventuale ritorno con Liam. Anche perché vorrebbe davvero essere felice insieme a Finn. Ma si sa bene, in questa sopopera non si può escludere un ritorno di fiamma. Nelle prossime puntate di Beautiful, che andranno in onda in America, Finn deciderà di aprirsi proprio con Hope. Nel momento in cui Steffi sarà impegnata a trascorrere una giornata in famiglia con Liam e Kelly. Il tutto potrebbe comunque essere basato su semplici amicizie. Non c'è alcuna certezza, infatti, che avvenga qualcosa di devastante tra queste due coppie. Nonostante ciò, sembra proprio che la sopop voglia gettare le basi per scuoterle un po' in futuro. Questa rappresenterebbe per Shayla una vera opportunità, anche se lei pare che si rivolgerà a tutt'altra persona per dividere Steffi e Finn, ovvero a Paris Buckingham. Nei prossimi mesi, oltre ciò, Liam e Hope si ritroveranno anche loro ad affrontare una situazione spiacevole. Tornerà in scena un misterioso personaggio dal passato, che metterà a dura prova il loro matrimonio. Per ora ci sono solo ipotesi, ma presto ci sarà un nome e tutto apparirà più chiaro. Non resta ora che attendere per scoprire cosa accadrà a queste giovani coppie. Grazie a tutti.